Salve a tutti, benvenuti a questa diretta di commento sulle novità normative di questo 13 settembre. Alcuni spunti di provvedimenti usciti nelle gazzette ufficiali di ieri e di ieri l'altro dell'11 e del 12 settembre in attesa dell'imminente pubblicazione della legge di conversione del decreto legge semplificazioni. Andiamo a vedere allora tre provvedimenti che vi illustro velocemente semplicemente come spunto per poterli poi analizzare vi do anche il link nei commenti dove sono andati a caricarli nel testo che vedete con evidenziate le parti più rilevanti. Partiamo dal decreto legge 11 settembre 2020 numero 117 disposizione urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. Vedete l'importanza di questo decreto legge che ha due oggetti non completamente separati riguardano il tema coronavirus e l'apertura delle scuole e utilizzo dei locali scolastici per la prossima tornata elettorale che vedete fa seguito ad una serie di decreti legge che durante il periodo emergenziale ha caratterizzato la produzione normativa il 18, il 23, il 26, il 33, il 34, l'83, il 104, il 111. Siamo al decreto legge 117, riprende la decretazione d'urgenza in maniera più intensa, questo parallelamente alla crescita dei contagi e dei dati epidemiologici. Il Consiglio dei Ministri il 10 settembre ha adottato questo decreto. A che cosa prevede? Nell'articolo 1 prevede uno stanziamento di 39 milioni che in realtà non sono risorse aggiuntive perché sono risorse messe a disposizione per la funzione specifica di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni referendarie a cui si provvede con analoga riduzione del fondo per l'emergenza nazionale, il fondo gestito dalla protezione civile, quindi sono risorse che comunque poi diciamo sottratte ad altri interventi urgenti, anche se appunto specificamente destinata a questo settore che quindi troveranno una ripartizione con decreto del Ministero dell'Interno a favore delle amministrazioni interessate, in particolare delle amministrazioni locali per appunto la rendicontazione di queste operazioni. Sappiamo che è uscito nei giorni scorsi il decreto legge e una circolare che stabilisce i criteri requisiti di sanificazione dei locali sede di seggio elettorale che ha comportato maggiori oneri per le amministrazioni. Il secondo comma invece stabilisce una maggiore spesa, diciamo non è una misura di finanziamento ma è un esonero dal calcolo delle limitazioni finanziarie alle assunzioni per i lavoratori a tempo determinato, sappiamo che esistono delle misure cosiddette patto di stabilità, in realtà in gran parte modificate dalle norme successive che vedremo fra l'altro a breve, le assunzioni di personale educativo, di personale tecnico e di assistenti all'interno dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni non si computano per la parte di differenza di maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nel 2019, quindi la maggiore spesa di personale rispetto a quella del 2019 per contratti di lavoro a tempo determinato personale educativo, scolastico e ausiliario non viene calcolata e quindi è extra limitazione finanziaria. Questo è il primo provvedimento, quindi due misure di interesse sicuramente per le amministrazioni locali. Poi abbiamo un secondo provvedimento sul quale faremo un videocommento molto approfondito con Andrea Bufarale, quindi per ora ve lo segnalo e basta, ed è la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, già approvata il 13 maggio 2020, quindi siamo a quattro mesi di distanza, che era scomparsa, diciamo approvata, era uscita in bozza, dopodiché non era stata ufficializzata ed è stata pubblicata in gazzetta ufficiale proprio l'11 settembre 2020, ed è la circolare relativa ai limiti assunzionali per le amministrazioni locali, quindi i comuni, con il sistema famoso della comparazione fra spese di personale e entrate correnti, che esplicita, spiega i contenuti del decreto attuativo, il decreto che ha dato attuazione, il decreto del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2020, che ha dato attuazione alle misure del decreto crescita, quindi 2019 decreto crescita, il 17 marzo il decreto attuativo, la circolare a questo punto è pubblicata, ufficialmente pubblicata, i contenuti sono simili, quasi identici in tutto rispetto a quella ufficiosamente uscita a maggio-giugno. Le cose più importanti, ve l'ho sottolineato, è la decorrenza 20 aprile 2020, quindi le misure valgono per tutte le procedure attivate dopo il 20 aprile 2020, tranne un'eccezione, la possibilità per chi aveva attivato le procedure prima del 20 aprile, di mantenere il vecchio regime, ovviamente se più favorevole, vecchio regime a condizioni però molto restrittive, quindi che siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie del 34 bis, che sia previsto nel piano triennale l'assunzione e che sia state prenotate nelle scritture contabili la relativa spesa. Se manca una di queste tre condizioni si rientra anche per le procedure ante 20 aprile 2020 nel regime del nuovo decreto, quindi questa è forse la precisazione più importante, poi ci sono tanti altri chiarimenti con esemplificazioni, ma come vi dicevo lascio a voi per chi ha a partire la refretta, in settimana faremo un videocommento di analisi della circolare, poi tornando indietro del decreto e del testo del decreto legge. L'ultimo provvedimento, questo è solo a titolo informativo e anche di curiosità per vedere un esempio di misure a sostegno sempre dei comuni, sono tre provvedimenti che riguardano le amministrazioni locali, Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020, modalità di attuazione delle misure a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato questo decreto che attua sempre una delle misure del decreto crescita, che prevedeva l'assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, che sono comunque un numero significativo di amministrazioni locali, quasi 2.000 comuni, che possono, sulla base di questo decreto, 1.940 comuni, presentare le loro domande a copertura integrale o parziale delle spese di efficientamento. Questo magari può essere utile anche per chi si approccia la prima volta alle misure di incentivo a favore degli enti locali. Come è strutturato? Sono previste una serie di condizioni, le finalità del decreto, gli interventi ammissibili dal punto di vista soggettivo, quindi comuni con meno di 1.000 abitanti, dal punto di vista oggettivo le spese sostenibili e ammissibili, e vedremo l'allegato A, l'allegato 1, e poi le condizioni, non avere già ottenuto un finanziamento, essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate nel bilancio di previsione e essere avviate entro il 15 novembre 2020, tre condizioni indispensabili per poter accedere al finanziamento. E gli interventi non ammissibili, manutenzione ordinaria, mera fornitura e progettazione non per la concreta realizzazione dell'opera, quindi vedete campo di applicazione in positivo, campo di applicazione in negativo. Il contributo può coprire anche tutta la spesa, o essere parte della spesa complessiva per realizzare questi interventi, e viene dato in due tranche. La prima in sede di inizio lavori, quindi nel momento in cui il comune che ha fatto domanda comunica sulla piattaforma telematica l'inizio dei lavori, attraverso l'invio alla PEC del modello 2, e poi in sede di collaudo, chiusura dei lavori e rendi contazione. La seconda quota, vedete, è previa verifica della conclusione dei lavori. A questo fine il comune ovviamente deve pubblicare in amministrazione trasparente il contributo ottenuto e l'allegato 1 elenca gli interventi ammissibili, quindi vedete per ogni intervento viene descritta la tipologia di interventi realizzabili, quindi è una sorta di catalogo, di elenco per evitare ovviamente contenziosi rispetto alla definizione normativa, quindi miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, sostituzione di sistemi per la produzione di energia termica, eccetera eccetera. Vedete, a seconda della tipologia di intervento c'è un catalogo abbastanza ampio di misure finanziabili. Qui c'è il modello invece che deve essere trasmesso per ottenere la prima trance di contributo ed accedere al contributo e poi abbiamo il template che il comune trova sul sito nel momento in cui deve attivare il CUP per accedere al beneficio. Diciamo che queste tre misure sono interessanti perché appunto da un lato manifestano un interesse per le amministrazioni comunali da parte appunto del decreto crescita prima e poi delle misure di attuazione poi e riprendono diciamo un percorso dopo il periodo del lockdown, il periodo estivo volto all'emergenza che in parte è legato all'emergenza, vedi il decreto legge, in parte è legato alla gestione a regime, quindi la circolare tratta delle assunzioni in un'ottica ordinaria, quindi non emergenziale. La misura per l'efficientamento energetico guarda nel medio-lungo periodo, non certo nel periodo emergenziale. Bene, era questo quello che volevo dire, vi metto il link per scaricare la documentazione, vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!